Buongiorno a tutti, la mia lezione riguarda le politiche europee, quindi della Unione Europea e non solo, relative al patrimonio culturale. Parleremo in questa lezione quindi di una brevissima storia di ciò che è stato e ciò che è oggi il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche europee e poi vedremo più da vicino le conclusioni e lo scenario più recente, soprattutto alla luce di una importante convenzione, la Convenzione di Faro, che di fatto ha rivoluzionato, sta rivoluzionando, sta modificando profondamente, quantomeno, tutte le, diciamo, la visione del patrimonio, del rapporto fra la popolazione, la comunità, come viene definita nella Convenzione stessa, e il patrimonio culturale. Ricordiamo infatti che il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quindi uno dei capisaldi dell'organizzazione e appunto del funzionamento dell'UE, dice e recita che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Quindi l'Unione Europea può appoggiare e integrare l'azione degli Stati membri all'interno del campo della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea. Nei trattati europei le politiche culturali sono fortemente sussidiarie, sono improntate al meccanismo per cui la loro responsabilità ricade di fatto e quasi esclusivamente prerogativa degli Stati e quindi delle autorità regionali e locali, diciamo dell'organizzazione interna ai singoli Stati. Il ruolo dell'Unione Europea in questo scenario è di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri attraverso soprattutto la promozione di cooperazione e scambi nel rispetto, come si suol dire, delle diversità nazionali e regionali degli Stati membri. Questo in considerazione soprattutto del fatto che soprattutto le politiche di protezione e conservazione del patrimonio culturale sono di fatto spesso, sempre e lo vedremo poi in di seguito, legate alle politiche di sviluppo territoriale e quindi come tali sono sempre state considerate innanzitutto fondamentalmente responsabilità nazionali. Questo ha significato che nel corso degli anni il confronto sui temi culturali, quindi sul patrimonio culturale europeo in fin dei conti è stato sempre esterno alla Unione Europea e alle istituzioni delle Unioni Europee ed è stato invece appannaggio di un'altra istituzione che ricordiamolo è separata, assolutamente indipendente, un'altra cosa rispetto all'Unione Europea che è il Consiglio d'Europa. Infatti all'interno del Consiglio d'Europa che nel corso degli anni sono nate le principali convenzioni europee sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Dicevamo che una delle convenzioni più importanti del Consiglio d'Europa è stata la Convenzione della Valletta, la cosiddetta Convenzione della Valletta, il cui titolo ufficiale è Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico. È un testo specifico che riguarda esclusivamente l'archeologia, io preferisco occuparmi di questo, sono sicuro che per quanto l'ambito sia fortemente specialistico, perché l'archeologia è solo uno dei campi in cui si segmenta il patrimonio culturale, tuttavia per le sue ricadute in questo settore, che fra l'altro essendo archeologo conosco meglio di altri, è abbastanza significativa, emblematica di un nuovo approccio sistematico a livello europeo nei confronti del patrimonio culturale. che succede appunto nel 1992, viene sottoscritta e ratificata la Convenzione da numerosi stati, la Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, che è un testo importante perché per la prima volta si considera attività tipiche, tipicamente connesse al patrimonio culturale, materiale in questo caso, come operazione che ricalde all'interno di politiche più ampie. Mi riferisco al tema di due attività specifiche, caratteristiche del patrimonio culturale materiale e archeologico in particolare, che sono la conservazione e la valorizzazione, che tradizionalmente, ma, diciamo, negli ordinamenti universitari, come nella legislazione degli stati membri, sono considerate operazioni, diciamo, di ricerca e operazioni professionali, di volte appunto alla ricerca, allo studio e alla protezione e alla conservazione del patrimonio. Negli articoli della Convenzione della Valletta, invece, conservazione e valorizzazione diventano un obiettivo, uno degli obiettivi da inserire, da considerare nelle politiche di urbanistica e di pianificazione territoriale. La Convenzione, infatti, di fatto propone una normativa, o meglio propone di normare le modalità di collaborazione fra archeologi urbanisti e pianificatori territoriali, con quale finalità? Con la finalità di assicurare la preservazione del patrimonio archeologico e di inserirlo, di considerarlo come un elemento, appunto, utile, sia in termini vincolistici che in termini di sviluppo alla pianificazione dello sviluppo sostenibile del territorio. La cosa importante di questa Convenzione è che, di fatto, ha aperto la strada alla creazione di una nuova figura professionale nel campo dei beni culturali, che è l'archeologo, che prima della Convenzione della Valletta era ritenuto uno studioso, un ricercatore, e che invece diviene una figura professionale richiedendo tutta una serie di interventi a livello normativo e legislativo per la tutela di questa nuova figura, l'inquadramento professionale di questa nuova figura e anche, dal punto di vista universitario, questo ci riguarda molto da vicino, per la formazione degli operatori. La Commissione della Valletta è stata ratificata da quasi tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, anche dall'Italia, seppure in forte ritardo, perché dal 1992 abbiamo dovuto attendere il 31 dicembre 2015 per la ratifica nel nostro Paese. La vediamo brevemente, questa Convenzione, brevemente perché si occupa solo di un aspetto particolare come il patrimonio archeologico, però mi interessa comunque discuterne, seppur brevemente, perché alcuni dei concetti chiave sono poi di grande importanza, perché sono alla base della successiva Convenzione di Faro. Già nella definizione, nel preambolo e soprattutto nei primi articoli della Convenzione, si definisce innanzitutto il patrimonio archeologico ed è molto interessante il fatto che venga definito fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico scientifico. Accanto quindi a termini, a una definizione più tradizionale come strumento di studio, la cosa veramente interessante è la definizione molto particolare, molto interessante di fonte della memoria collettiva europea. Vedremo come questo poi nella Convenzione di Faro maturerà ulteriormente. L'altra cosa interessante è che non esiste una classificazione cronologica specifica, cioè il patrimonio archeologico non è definito come il patrimonio antico, ma semplicemente, è sempre l'articolo 1, nel descrivere cosa costituisce il patrimonio archeologico, la Convenzione recita sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, i beni e le altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato. Un passato che non viene caratterizzato ulteriormente, non è definito antico, non è definito classico, non è definito medievale e quindi apre di fatto la applicabilità dell'archeologia e dei suoi metodi a tutto ciò che è passato, il più remoto come anche il più recente. Gli articoli più importanti della Convenzione della Valletta sono poi quelli che, a partire dal 3 e dal 4, determinano, descrivono e pongono degli obiettivi concreti quali garantire la scientificità delle operazioni di ricerca archeologica, il che appunto, vi dicevo, ha portato poi alla necessaria normativa di che cosa si intende per scientificità delle operazioni di ricerca, così come poi la Convenzione si occupa di misure di protezione fisica del patrimonio archeologico e di conservazione integrata. Cioè, conservazione integrata è il concetto importante, appunto si intende una conservazione del patrimonio che, oltre a essere orientata e chiaramente finalizzata alla preservazione dell'integrità del patrimonio stesso, però, come dice l'articolo 5, cerchi di conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia e della pianificazione. Garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, questo lo dicevamo già prima, e fare in modo, questo è importantissimo, che gli studi di impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto. Tutte queste indicazioni della Convenzione daranno, per esempio, in Italia il via a alcuni strumenti normativi, di quali, per esempio, la VIAR, cioè la valutazione dell'impatto archeologico, che è diventata una pratica importante in tutto ciò che poi è diventata l'archeologia preventiva. Il termine stesso di archeologia preventiva, che nasce a valle di questa Convenzione, è appunto la normativa italiana che, in qualche maniera, regola tutto ciò che era stato ispirato dalla Convenzione stessa. Altri punti salienti della Convenzione, che poi hanno caratterizzato fortemente l'approccio, diciamo, fra archeologia e professioni negli anni successivi, è per esempio l'attenzione particolare per la conservazione in situ, quindi per, diciamo, la conservazione del contesto archeologico, non soltanto del reperto, che tradizionalmente invece si tendeva a decontestualizzare, pensiamo agli oggetti nei musei, o anche agli strappi dei mosaici e dei rivestimenti praticati nel passato, insomma, forse la forma principale di sudditanza del patrimonio archeologico rispetto alla pianificazione e all'espansione urbanistica, come tradizionalmente è avvenuto in Italia, diciamo, dall'unità d'Italia in poi. Altri elementi che appaiono nella Convenzione, proseguendo rapidamente negli articoli, riguardano il finanziamento alla ricerca, i mezzi materiali dell'archeologia preventiva, una normalizzazione della raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche, e anche importante, perché poi nella Convenzione di Faro questo tornerà in maniera determinante, quella che qui viene definita la sensibilizzazione del pubblico, cioè la necessità di intraprendere un'azione educativa e di promuovere l'accesso del pubblico al patrimonio archeologico. Nella Convenzione di Faro si farà un importantissimo passo avanti in questo specifico settore, eliminando il concetto di pubblico come un soggetto altro che accede al patrimonio e ai luoghi del patrimonio, ma invece considerando il pubblico come una comunità di persone che partecipano all'intero processo che ruota intorno ai beni culturali e al patrimonio culturale, lo vedremo fra un attimo più nel dettaglio. La Convenzione poi continua con importanti norme per prevenire la circolazione illecita di reperti e di elementi del patrimonio archeologico e poi con altri articoli sull'assistenza tecnica e scientifica fra ricercatori e tecnici di tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa. Ripeto, poi abbandoniamo la Convenzione della Valletta, che la grande importanza storica di questa Convenzione è stata quella di aver regolamentato per la prima volta in Europa una visione professionale del lavoro sul patrimonio culturale. Veniamo adesso a vedere più nel dettaglio l'oggetto di questa nostra lezione, cioè la Convenzione di Faro, quella che normalmente viene chiamata la Convenzione di Faro, il cui nome ufficiale esteso è Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società. Il nome Convenzione di Faro deriva appunto dalla città del Portogallo, dove fu, come succede, come consuetudine per le Convenzioni del Consiglio d'Europa, fu aperta per la firma per gli stati membri nell'ottobre del 2005, dopo essere stata ufficialmente adottata il 13 ottobre del 2005 dello stesso anno dal Consiglio dei Ministri dei Consigli d'Europa. La Convenzione di Faro è una Convenzione Quadro, una Framework Convention, cioè una convenzione che ha delle caratteristiche particolari. Innanzitutto non crea obblighi specifici per l'azione, il suo contenuto non è normativo da questo punto di vista, ma di fatto si dice definisce obiettivi generali e suggerisce campi di intervento, piuttosto che imporre metodi, strategie e campi di intervento. Ne deriva che, per quanto riguarda appunto le Convenzioni Quadro, scusate, ciascuno Stato può decidere i mezzi più convenienti per attuare la Convenzione in base ai propri quadri giuridici, proprio ordinamento istituzionale, anche alle pratiche e all'esperienza specifica all'interno di ciascun settore. Fino ad oggi sette stati membri del Consiglio d'Europa, solo sette stati membri, hanno firmato la Convenzione. Cosa si intende per firmare una Convenzione? Si intende che uno Stato ha firmato una Convenzione quando ha partecipato ai negoziati per la costruzione della Convenzione, ha firmato il trattato, appunto la Convenzione stessa, e ha espresso l'intenzione di conformarsi alle indicazioni e alle direttive della Convenzione stessa. Diciamo che la firma della Convenzione è una espressione di intenti nei confronti dei contenuti della Convenzione stessa, ma non è una operazione vincolante, cioè non vincono allo Stato alla adozione della Convenzione. Questa operazione è invece la ratifica, quella che si chiama ratifica della Convenzione, che è stata applicata da 17 stati del Consiglio d'Europa. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato che ha ratificato la Convenzione ha concesso l'approvazione della Convenzione secondo le proprie procedure nazionali, e che quindi la Convenzione è stata discussa e ratificata all'interno dell'ordinamento vigente nel singolo Stato, ed è diventata legge dello Stato, è diventata vincolante. Da questo punto di vista il nostro Paese non ha ancora ratificato la Convenzione, pur essendoci andata molto vicino all'obiettivo, a febbraio del 2020 la Convenzione non risulta ancora ratificata. A questo punto guardiamola un po' più da vicino, guardiamo gli aspetti salienti di questa Convenzione, a partire dall'articolo 1, in cui le parti, appunto i Paesi membri, di fatto convengono cosa? Convengono su alcuni aspetti fondamentali, la cui importanza è davvero innovativa. Già nel primo comma dell'articolo 1 i Paesi riconoscono il diritto all'eredità culturale, riconoscono che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto alla partecipazione alla vita culturale. Solo una nota sul fatto che in alcune traduzioni italiane della Convenzione, non in quella ufficiale fortunatamente, il termine heritage, che in inglese si definisce l'eredità, ma di fatto definisce tecnicamente il patrimonio, quindi cultural heritage e il patrimonio culturale, in alcune traduzioni che circolano il termine inglese heritage è reso con eredità e non con patrimonio culturale, che è di fatto una debolezza di queste traduzioni perché il termine eredità culturale non ha in realtà alcun fondamento giuridico nel nostro Paese, quindi la piena applicazione della Convenzione si ha, grazie all'ultima traduzione che è quella che prevede il termine patrimonio culturale e non eredità. Così la leggeremo adesso, quindi riconosce le parti, i Paesi membri del Consiglio d'Europa convengono nel riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è un diritto di partecipazione alla vita culturale. Sempre nell'articolo 1 si riconosce una responsabilità individuale e collettiva delle popolazioni nei confronti del patrimonio culturale, quindi è un po' il superamento di quel concetto di pubblico contrapposto a patrimonio che c'era nella Convenzione della Valletta, e convengono le parti anche nel prendere le misure necessarie per applicare la Convenzione riguardo al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale. Ecco, questo punto è un po' il cuore della Convenzione, cioè l'idea che il patrimonio culturale è un elemento fondamentale non nella creazione di identità nazionali, quanto invece nella costruzione di una società aperta, partecipata, pacifica e democratica. Il resto della Convenzione di fatto contribuisce e continua con la definizione di tutti gli aspetti legati a questo concetto chiave. Già l'articolo 2 è fondamentale perché inizia a definire, iniziano le definizioni dei concetti della Convenzione, quindi la prima definizione ovviamente è quella di patrimonio culturale, quindi che cosa è il patrimonio culturale per la Convenzione di Faro? è un insieme di risorse ereditate al passato. Anche qui il termine passato è privo di qualsiasi aggettivo che ne caratterizzi la localizzazione geografica o la caratterizzazione cronologica, è un passato. Questo è anche un problema perché poi taglia fuori tutto ciò che è patrimonio culturale in corso di formazione, quello contemporaneo. Però già questa mancanza di una caratterizzazione specifica è molto importante. Altra cosa molto importante è che queste risorse sono identificate dalle popolazioni, cioè dalla comunità, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, ed è un insieme di risorse in continua evoluzione, che quindi comprende una serie di valori dinamici, diciamoci legate a tante successive interazioni fra le popolazioni che hanno occupato e vissuto un certo territorio in un dato tempo, e appunto fra le popolazioni e i luoghi in cui queste popolazioni hanno vissuto. Questo concetto è fondamentale nella impostazione della Convenzione di Faro, cioè il rapporto fra una popolazione e il patrimonio culturale. Per identificare e capire quali sono i termini, i confini di questa popolazione, di quello che appunto nella valletta era il pubblico, esiste e l'articolo 2, secondo comma, introduce un altro, il secondo dei due concetti chiave della Convenzione, che è quella della comunità di patrimonio. Comunità di patrimonio è considerata come un insieme di persone, un insieme di persone accumunato non da identità diverse, da etnie diverse, da luoghi diversi, da luoghi specifici in cui si sono sviluppate, ma caratterizzate dal fatto di attribuire valore a specifici aspetti del patrimonio culturale, specifici aspetti che desidera sostenere e trasmettere alle generazioni future come parte della propria caratteristica. Da questo punto di vista esiste un rischio in queste parole, è inutile negare che esiste un rischio che è quello di una identificazione identitaria del patrimonio, cioè il patrimonio è mio perché io credo che questo sia più importante di quest'altro, credo che questo sia mio. Questo è sicuramente un rischio della Convenzione di queste parole, che però viene, direi, prontamente cancellato dagli articoli successivi della Convenzione stessa, in particolare dall'articolo 3, che si intitola Patrimonio Comune dell'Europa, in cui è specificatamente indicato come le parti convengono nel promuovere la costruzione, la comprensione di un patrimonio comune europeo, che non è un patrimonio delle singole identità, ma è un patrimonio delle caratteristiche comuni. Cosa rende, cosa è alla base di questa identificazione? Sono, cosa comprende, cosa è composto questo patrimonio comune europeo? Sono tutte le forme di patrimonio culturale che costituiscono nel loro insieme, non nelle loro singolarità, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività. Ecco, qui appare il termine identità, che può essere, diciamo, considerato un termine rischioso, insomma, una parola che non è necessariamente una parola neutra, ma può essere anche fortemente caratterizzante da alcuni orientamenti, diciamo, sovranisti. Però è la cosa interessante, se rileggiamo bene questo articolo, appunto, che l'eredità è una somma di identità, è una somma, è un insieme, esiste in quanto tale, non in quanto costituita da identità diverse. A rimarcare ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, questa importante accezione del termine identità, è il comma successivo che definitivamente chiarisce che il patrimonio culturale condiviso europeo è composto, questo consiste in tutti gli ideali, principi e valori che sono derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati per promuovere, appunto, come si diceva già nell'articolo 1, una società pacifica, stabile, di diritto e democratica. La storia, la complessa storia europea, diventa nella sua complessità, nella sua divisione, parte fondante di questo nuovo patrimonio culturale europeo. Questa convenzione, lo dico da archeologo, è piaciuta molto agli archeologi per una serie di motivi. Sicuramente è piaciuta perché ha centralizzato il ruolo del patrimonio, anche del patrimonio materiale, dando una nuova prospettiva alla significatività delle tracce materiali del passato. Al via di questo, però, ecco, come hanno sottolineato alcuni autori che si sono occupati della convenzione di Faro, del suo significato profondo e rivoluzionario, è stato definito da alcuni, è il passaggio da una concezione del valore in sé dei beni, cioè che l'oggetto è importante in quanto tale, in quanto appunto cosa, in quanto antico, in quanto bello, in quanto nostro, e quindi una concezione fortemente identitaria, si passa da questo a un valore che è relativo alle persone, cioè sono le persone a immaginare e a costruire il valore del patrimonio stesso. è un diritto al patrimonio, un diritto che sia individuale, ma anche collettivo, di accedere e di trarre beneficio dal patrimonio stesso. è importantissima questa cosa perché la valorizzazione del patrimonio culturale diventa un pilastro fondativo per la costruzione di una società culturale, di una società pacifica, di una società democratica, non è un mezzo di ricchezza in senso tecnico stretto, cioè la ricchezza del patrimonio sta nell'essere un elemento di crescita culturale e anche di crescita economica culturale, che però è una crescita mediata dal rapporto fra le persone e il patrimonio stesso. È di fatto un rovesciamento totale delle prospettive, cioè l'autorità per esempio è spostata dal vertice alla base, non è più il ricercatore, non è più l'esperto che decide cosa è importante, ma è anche il ricercatore all'interno di un gruppo, di una comunità in cui ci sono tante istanze. Si sposta, si rovescia complessivamente questo, si rovescia il termine, si rovescia il valore, quindi il valore non è più il valore intrinseco nella preziosità dell'oggetto, ma è nel valore d'uso, cioè di quanto un singolo oggetto, un singolo sito, un singolo contesto archeologico sia importante, sia musealizzabile, sia valorizzabile, sia da tutelare. Ma come avviene l'interazione fra il patrimonio culturale e la sua comunità? Quali sono i meccanismi, quali sono i termini, qual è il campo in cui si gioca questa importante partita? Andando avanti nella lettura di alcuni articoli della Convenzione, arriviamo all'articolo 5, in cui a proposito delle leggi e delle politiche che appunto gli stati membri sono invitati a sviluppare sul patrimonio culturale, le parti si impegnano a una serie di cose importantissime, fra cui, a parte il riconoscimento dell'interesse pubblico, mi piace soffermarmi un attimo su questo comma B. Le altre cose sono importanti, ma questo comma è assolutamente fondamentale, perché quello che dice la Convenzione, quello che vuole la Convenzione in questo caso è dire che l'impegno nei confronti del patrimonio culturale avviene attraverso alcune fasi fondamentali, alcune fasi di quello che è un processo, un processo unitario, un processo fortemente coeso, che è composto di diverse fasi. Le fasi sono appunto come si mette in luce il valore del patrimonio culturale, e lo si mette in luce attraverso l'identificazione del patrimonio stesso, lo studio, l'interpretazione, la protezione, la conservazione e la presentazione. Questi sei termini sono tutti profondamente importanti, alcuni sono assolutamente innovativi, altri divengono innovativi se considerati alla luce di quanto abbiamo detto sul fatto che il patrimonio non è un oggetto che esiste in quanto tale, ma è un oggetto che diviene importante nel momento in cui è considerato da una comunità, è legato a una comunità, che quindi comunità, che è l'organismo all'interno del quale lavorano tutti quelli che sono gli attori di questo scenario complesso. Cioè la comunità non c'è il ricercatore che identifica il patrimonio e dice questo oggetto è importante, questo oggetto è parte del patrimonio, ma c'è certo il ricercatore, c'è il tecnico all'interno di un gruppo che è una comunità. Quindi è la comunità stessa, non bisogna fare l'errore di distinguere la comunità rispetto allo specialista. La specialista è parte della comunità ed è una delle caratteristiche di questa comunità. ed è quindi la comunità nel suo insieme che non ha la funzione solo di conservare o di presentare, ma anche già di identificare il patrimonio come tale, di studiarlo, di contribuire allo studio, di contribuire all'interpretazione, che è diversa dallo studio, alla protezione, alla conservazione e anche alla presentazione. Ecco, questo termine presentazione è un po' nascosto nella Convenzione, però è un termine fortemente innovativo. Perché? Perché sostituisce quello che tradizionalmente nei processi, di quella che un tempo si chiamava la catena del valore del patrimonio culturale, cioè la ricerca, la conservazione e la valorizzazione, era un ambito un po' strano, in cui erano strane le competenze, erano strane le finalità, che era appunto la valorizzazione, la divulgazione, la comunicazione. Invece il termine presentazione riassume un po' tutto questo al suo interno ed è considerato come il punto di arrivo di un processo fortemente intario che parte dall'identificazione del patrimonio stesso. Quindi non può esistere una presentazione senza tutto quello che c'è prima. La Convenzione di Faro non è ovviamente priva di difetti, ci mancherebbe, non è la perfezione assoluta, però rappresenta un importante punto di riferimento per quello che può essere il ruolo del patrimonio culturale in questo secolo. Questa visione innovativa che ho cercato di descrivere, io penso che continuerà sicuramente a ispirare il futuro della governance e della gestione del patrimonio culturale negli anni a venire, sperando che continui il processo di ratifica, che termini il processo di ratifica nel nostro Paese. Ci sono sicuramente alcuni punti da considerare come critici, come suscettibili di miglioramento immediato. Ecco, come spesso avviene nelle convenzioni, nel rapporto tra l'Italia e la Comunità Europea e il Consiglio d'Europa, c'è sempre una lunga gestazione, una troppo lunga gestazione, un tempo enorme che passa fra la fase costruttiva, la fase di azione, di scrittura di una convenzione e la sua applicazione. non sta a me, diciamo, a dire in questo momento perché questo avviene o perché questo si pensa che avvenga, però ecco, la sempre lunga gestazione delle convenzioni in quadro alla fine finisce con, diciamo, depauperarne in parte il significato. Questo è stato evidente per la Convenzione della Valletta ed è evidentissimo per la Convenzione di Faro, che in Italia è stata perfettamente recepita da tutti i ricercatori, quasi tutti i tecnici dei beni culturali e del patrimonio, ma la sua mancata applicabilità a livello legislativo ancora, diciamo, ne blocca di fatto la piena espressione. Uno solo degli aspetti più problematici, diciamo, della lunga gestazione della Convenzione di Faro è il ruolo assolutamente marginale che viene attribuito a tutto ciò che è digitale nella Convenzione, che viene considerato, diciamo, come un aspetto collaterale, un aspetto tutto sommato secondario del rapporto fra comunità e patrimonio culturale o addirittura una specifica minaccia, sì, una minaccia al patrimonio, la replicabilità, l'accessibilità di risorse digitali viene considerata come un... la facilità di accesso e di replicazione delle risorse culturali e digitali viene considerata come una minaccia all'integrità del patrimonio culturale stesso. Questo, diciamo, è un aspetto assolutamente superato, ma è anche facilmente intuibile perché si sia arrivati a questo se consideriamo che l'anno 2005, in cui la Convenzione di Faro vide la luce non aveva ancora visto nascere, ad esempio, gli smartphone. L'iPhone non sarà rilasciato che qualche anno dopo, la cultura del mobile non esisteva neanche e quindi tutto ciò che è digitale va assolutamente riscritto e integrato nella Convenzione, come il digitale che ci ha cambiato la vita, il digitale che ci permette di fare questa lezione in questo momento, sicuramente non è una minaccia per il patrimonio culturale, tanto più che il Consiglio d'Europa negli anni successivi è arrivato a definire il digitale, sia digital born, cioè ciò che nasce come digitale, sia ciò che è risorsa digitalizzata del passato, come un asset culturale strategico da affiancare alle risorse del passato tangibili e intangibili, cioè la dimensione digitale è diventata non solo una tecnologia o una risorsa di accesso al patrimonio, ma è diventato un asset culturale stesso. La video arte, l'arte digitale, i corpora digitali di informazione sul patrimonio sono a loro volta degli oggetti culturali che devono essere identificati, protetti e valorizzati al pari di tutte le altre risorse culturali. Il digitale, insomma, rappresenta un asset caratteristico, caratterizzante del nostro mondo contemporaneo ed è giusto che anche esso diventi una delle tante risorse che la Convenzione di Faro così intelligentemente considera parte integrante di un patrimonio e parte di un rapporto fra il patrimonio stesso e la sua comunità. Per spiegare un po' tutto questo, mi piacerebbe presentarvi un esempio di cui mi sono occupato recentemente, che è un esempio in cui mi sono trovato a ragionare su una possibile interazione fra archeologia, patrimonio culturale e comunità di patrimonio all'interno di un esperimento molto specifico. Quest'anno, a partire dai corsi che ho fatto all'università, mi sono occupato di un tema specifico, che è quello dell'archeologia del passato contemporaneo, come ormai la si definisce in letteratura, cioè dell'applicabilità della lettura materiale dei resti archeologici di contesti molto vicini a noi. Molto vicino a noi intendo del Novecento, anche della seconda metà del Novecento. In questo lavoro, lo descrivo brevemente, senza entrare nei dettagli, fra le varie cose mi sono occupato anche dello studio di un sito molto particolare, di un sito molto interessante, che è il sito di un grande campo di prigionia della Seconda Guerra Mondiale, ubicato a metà strada fra Altamura e Gravina sulle murge. Forse alcuni di voi ne avranno sentito parlare, si tratta del cosiddetto campo prigionieri di guerra 65, il campo 65, come è normalmente definito. Il mio approccio è stato quello archeologico, cioè con gli studenti del mio corso di archeologia digitale abbiamo provato a fare una ricostruzione virtuale, come se fosse un sito antico di un sito così recente. Abbiamo quindi costruito una piccola comunità nella quale abbiamo pensato di usare queste tecniche in modo sperimentale su contesti che molti archeologi stenterebbero a definire contesti archeologici. E questa è una prima piccola comunità che si è venuta a creare. Abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo fatto i rilievi come se fosse dei pochi resti rimanenti, come se fosse un luogo qualsiasi, un sito archeologico, anche se arrivando poi siamo arrivati alla conclusione che anche questo è un sito archeologico. E abbiamo quindi cominciato da ricercatori, da studenti a occuparci di questo sito. E devo dire che già da prima ovviamente nel fare il lavoro di raccolta delle fonti, di ricostruzione storica, ho avuto modo di trovarmi di fronte non solo un sito straordinario, ma un esempio incredibile proprio di una comunità di patrimonio. Una comunità di patrimonio davvero particolare che è quella che si era costituita intorno a questo luogo e di cui sono felicissimo di essere divenuto un componente insieme agli studenti e a quelli che sono anche i laureandi, che hanno tratto da questa esperienza anche un argomento per una tesi di laurea. Cosa è successo? È successo che in questo luogo opera un'associazione, un'associazione che si chiama Associazione Campo 65, che fa una cosa particolare, cioè si occupa di ricostruire la memoria storica del sito dal punto di vista fortemente documentale, come interagendo attraverso gli strumenti del digitale, i social network soprattutto, alla creazione di una fitta rete di contatti con il mondo ormai lontano che ha gravitato intorno a questo luogo. Stiamo parlando di un campo di prigionia degli anni 40, quindi della seconda guerra mondiale, in cui furono reclusi e prigionieri che provenivano soprattutto dalla campagna d'Africa, quindi prigionieri inglesi, prigionieri australiani, prigionieri sudafricani, prigionieri soprattutto di quello che era l'impero britannico. Ovviamente nessuno di questi è più in vita, ma sono in vita dei discendenti. E l'idea geniale, l'idea incredibile di questa associazione e del suo presidente, di Domenico Bolognese, che non smetterò mai di ringraziare per la cosa che mi ha fatto conoscere, per questa esperienza incredibile che mi ha fatto conoscere, e aver raccolto le testimonianze di queste persone. Quindi hanno cominciato a confluire, su Facebook semplicemente, o via mail, una quantità di fonti e di informazioni incredibili su questo sito, di persone che hanno riconosciuto i propri genitori dalle fotografie postate da altre persone, che hanno scritto i loro ricordi, che sono i ricordi dei propri padri, che hanno a sua volta raccontato loro dell'esperienza della prigionia una volta finita la guerra. Diciamo, noi e gli studenti di archeologia abbiamo apportato uno studio delle componenti fisiche di questo luogo. Abbiamo ricostruito i luoghi, abbiamo provato a ricostruire, come avremmo fatto, ripeto, con i nostri siti archeologici, la dimensione materiale. La dimensione materiale è importante perché dà veridicità, fa toccare con mano la memoria, in questo caso. Non soltanto la ricostruzione storica, ma la ricostruzione della memoria. E quello che si è venuto a creare è, a mio avviso, un caso emblematico, limpido, perfetto, di quello che può essere una comunità di patrimonio della Convenzione di Faro. Perché si è creato un gruppo eterogeneo, assolutamente eterogeneo, assolutamente globale, perché partecipano a questa comunità italiani, sudafricani, israeliani, australiani, inglesi, canadesi. Partecipano a questa comunità persone di tutto il mondo, di tutte le età, perché ci sono figli, nipoti, dei reduci, che hanno trovato nelle loro soffitte, nelle loro fotografie, legami con questo luogo. Ed è fatto di persone con un ruolo diverso, cioè di ricercatori come me, o di appassionati, di discendenti, di studenti, di professori di scuola. Ciascuno, con le proprie competenze, hanno contribuito a creare e a caratterizzare questa comunità come qualcosa di veramente importante. Ma la cosa forse più bella, che riassume un po' e dà il senso a tutta questa operazione, è proprio, nello spirito della Convenzione di Faro, è proprio la capacità di identificare un valore intorno al quale aggregare tutte queste persone, tutte queste visioni di un luogo tutto sommato in rovina, di un luogo poco significativo, che parla poco nella sua dimensione residuale. Mi riferisco in particolare al fatto che questa comunità è stata in grado di attribuire un significato a tutto questo. Il significato è emerso in maniera evidente il 2 giugno dell'anno scorso, quando abbiamo organizzato presso il campo un evento in occasione della Festa della Repubblica. e questo è stato bellissimo, importantissimo, perché è venuto un sacco di gente, per curiosità o per senso di appartenenza, la comunità, da essere comunità virtuale, digitale, da social network, si è improvvisamente appreso una dimensione fisica, era lì in quel giorno, in quel momento, e era evidente che intorno a questa comunità si raccogliesse intorno a quello che era un valore condiviso fra tutti e era un valore importantissimo che da archeologo non riesco mai ad attribuire ai miei siti, agli oggetti, ai reperti che identifico e studio. Perché qual era il valore di questa operazione? Era riconoscere nei 70 anni e passa di pace in Europa un valore, uno dei pilastri di quel patrimonio condiviso europeo che ci unisce un po' tutti e ci dovrebbe unire maggiormente, sempre di più, in futuro. E' anche vero che non ci si ferma a questo, perché come la convenzione di faro vuole il patrimonio è dinamico e di relazioni, e anche quella che noi viviamo come un lungo, inaspettato, incredibile e unico momento di pace, è inutile nasconderselo e per il resto del mondo, per prima parte del pianeta, è diventato semplicemente uno spostamento della linea del conflitto e del fronte del conflitto all'esterno del confine europeo. E da archeologo e da studioso del patrimonio posso solo dire che questo è un'altra grande sfida dal punto di vista della costruzione di un'identità comune, collettiva e dinamica, anche attraverso un'identificazione di un patrimonio culturale e archeologico nuovo, perché anche questi fenomeni, come erano le sofferenze della Seconda Guerra Mondiale, questi fenomeni di sofferenza che sono ormai esterni ai nostri confini europei, ma che sono appena esterni, molto vicini a noi, stanno lasciando tracce materiali, stanno lasciando resti, rovine, residui che un domani, ma non troppo in là, bisognerà iniziare a studiare non solo per il riconoscimento di questi oggetti, di questi relitti, di questi luoghi, come testimonianze materiali, ma anche per capire se e come saranno in grado di esprimere una comunità e un valore di appartenenza. Grazie.